Bitcoin arriverà a 50.000 dollari entro fine anno e a 120.000 entro il 2024. È quasi il doppio rispetto al precedente All Time I, nonché 4 volte sì rispetto al prezzo attuale. Questa è l'ultima predizione, non fatta da Plan B, ma fatta da Standard Chartered, una grande banca americana. Sono sicuro che avevate già tutti letto o sentito questa notizia, ma sapete cos'è che li fa puntare a questi price target? Nel video di oggi andiamo a leggere ed analizzare, commentare insieme il paper della ricerca che sta dietro a questa predizione, basata soprattutto su dinamiche legate ai miner, molto interessante. Come sempre lo scopo non è andare in FOMO, in quanto sapete cosa ne penso delle predizioni di prezzo, anche quando vengono fatte da aziende con una reputazione non da poco, ma è imparare qualcosa di nuovo da modelli di valorizzazione e pricing di Bitcoin fatti comunque da professionisti. Quindi tieniti forte e andiamo a scoprire cosa si cela dietro a questa forte predizione. E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ci ritroviamo oggi a fare un altro contenuto dedicato un po' di più alla ricerca, a capire meglio modellizzazioni di prezzo e di valori intrinseco per Bitcoin, che secondo me possono essere cose molto interessanti, soprattutto se fatte da attori autorevoli come banche o istituti finanziari. Fatemi sapere lasciandomi un like se vi piacciono contenuti di questo tipo, così io mi regolo e capisco se continuare a farli oppure no. Inoltre se ti interessa essere sempre aggiornato e sempre sul pezzo sul mondo cripto, oltre ovviamente ad iscriverti al canale per un video ogni giorno, quindi sei veramente il più sul pezzo di tutti, se ti interessa addirittura avere notizie, quelle che muovono il mercato e le nostre analisi in tempo reale, guardate quante ne vengono erogate al giorno in maniera gratuita, iscriviti al nostro canale Telegram, ti lascio il link in descrizione, espandila e lo trovi. Vi faccio anche una domandozza bella diretta. Qual è la tua personale previsione per Bitcoin, per il prezzo di Bitcoin, a fine anno e per il 2024? Lasciala nei commenti giustificandola, così vediamo chi ha la sfera di cristallo che funziona meglio. Ora ritorniamo a noi. Questo è il paper di ricerca, sono una decina di pagine, in realtà sono sette pagine perché tre sono di disclaimer e la cosa mi diverte sempre tantissimo, scritte proprio da Standard Chartered, che è questa banca americana abbastanza di grandi dimensioni che si è sempre spinta in maniera molto positiva nei confronti di Bitcoin e degli asset digitali, tant'è che ha dedicato un intero ramo di ricerca proprio alla sezione Digital Assets. E non solo, si è spinta anche con progetti molto innovativi proprio nell'ambito dell'adozione e dell'utilizzo di asset digitali in primis Bitcoin, soprattutto a livello payments. Ma questo è un altro argomento. Oggi ci interessa andare a scavare all'interno di quella predizione, o meglio, dietro quella predizione che tutti, penso, abbiamo sentito perché ha fatto notizia, secondo la quale hanno posto un price target di 50.000 dollari per fine anno barra inizio 2024 e addirittura 120.000 per fine 2024, per l'anno 2024. E questo di fatto è un aggiustamento, in positivo ovviamente, rispetto ad un'altra ricerca che avevano fatto un po' di tempo fa, erogato un po' di tempo fa, dove si ponevano come prossimo target subito dopo l'halving, quindi nell'anno 2024, di 100.000 dollari. Sono diventati ancora più bullish spiegando il fatto con delle dinamiche che stanno dietro alle vendite, soprattutto, da parte dei miner, che secondo loro impattano parecchio sul mercato e sul prezzo di Bitcoin. E adesso andremo a vedere per quale ragione. Prima di andare a scavare, quindi, in questa nuova ricerca, vale la pena, se ve l'eravate persa, andare a capire che cos'è che pone innanzitutto il target iniziale di 100.000 dollari. Se vi interessa leggere anche questa ricerca, io vi lascio comunque i link in descrizione, come sempre, così potete leggervi i paper originali. Io oggi questa ve la riassumo perché la cosa interessante, a mio parere, era proprio questa qui, incentrata sulle dinamiche dei miner, che sono cose nuove, che è difficile, ecco, andare a reperire dei dati così granulari e così definiti proprio sui movimenti dei miner, su come ragionano i miner come industria, proprio in termini di ricavi, quanto costa per loro minare, come fanno a ottenere la liquidità per minare, quanto quindi impattano sul mercato di Bitcoin stesso. Al contrario, questa ricerca iniziale che punta al target di 100.000 dollari per il 2024, diciamo che sono cose tra virgolette, passatemi il termine, già sentite. Sono riassumibili, vedete, con questa immagine che mostra tutti i fattori che impattano verso l'arrivo ai 100.000 dollari, che è il loro target. Abbiamo, i primi 20.000 sono i problemi pre-Silicon Valley Bank. Questa è uscita il 24 di aprile, quindi proprio nel pieno della crisi bancaria e la crisi bancaria è uno dei focus principali di questa ricerca. Infatti, il secondo blocco, cioè pre-SVB issues, si intende tutti quei problemi del settore bancario che ci hanno accompagnato dal 2008, dalla crisi del 2008, a oggi, quindi il motivo per cui è nato Bitcoin, eccetera, 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 no? La questione della stampa di moneta, Bitcoin si oppone a tutto questo, al controllo centrale, tutte quelle dinamiche, no? Che rendono la moneta fiat quello che è. Banking sector issues, il secondo fattore che ha spinto dai 20 ai 30.000 circa, ed effettivamente è stato così, sono proprio i problemi legati alla crisi di questi anni, di questi mesi, o meglio, la crisi dovuta al fatto che i bond si sono deprezzati, le banche hanno rischiato l'insolvenza, il governo ha dovuto nuovamente salvarle, tutti quei problemi che ormai dovremmo conoscere, ed effettivamente, se andiamo a guardare il grafico, il primo grande rally di Bitcoin di quest'anno c'è stato proprio, vedete, in realtà non è proprio il primo, il primo era gennaio, il secondo c'è stato proprio in concomitanza con la crisi Silicon Valley Bank ed intorni, proprio perché questo ha spinto molto la narrativa Bitcoin come strumento alternativo di conservazione del valore che non sottosta a tutti quei rischi che effettivamente le banche danno, rischi molto nascosti che però quando saltano fuori lo fanno in piena potenza. Il terzo punto vedete che porta il prezzo a 40.000 dollari, secondo loro la proiezione di 40.000 dollari è la Bitcoin Dominance. Se poi noi scendiamo in realtà viene mostrato anche un po' una spiegazione più dettagliata di ogni punto. Qui ad esempio nel settore bancario mostrano le implicazioni per le stable coin che sono state prelevate in massa dagli exchange, inoltre le stesse stable coin hanno visto un esodo di capitale perché il caso Circle è stato emblematico, ha mostrato che le stable coin sono legate a rischi molto simili a quelli delle banche stesse perché di fatto sono basate su conti bancari e quindi parte del valore che era detenuto nelle stable coin si è trasferito in Bitcoin proprio perché non sottosta a questi rischi. Ecco self-custody and Bitcoin dominance la crisi bancaria come vedete da questi grafici ed è il punto numero 3 questo 2-3 in verità ha portato e non solo la crisi bancaria questo se vogliamo anche la crisi della centralizzazione che abbiamo vissuto nel mondo cripto nell'anno 2022 la Cefai gli exchange insomma tutte quelle piattaforme centralizzate che sono andate incontro all'insolvenza in una crisi senza precedenti per il mondo cripto ecco questo ha portato alla luce l'importanza della self-custody soprattutto self-custody su Bitcoin che è la moneta la cripto più sicura in assoluto per motivi che ormai tutti quanti conosciamo per questa ragione la Bitcoin dominance ha visto un incremento notevole nell'ultimo periodo e lo stesso come vedete la self-custody il bilancio sugli exchange è decrementato questo di nuovo induce un maggior flusso verso Bitcoin anche da appunto stablecoin barra altcoin e di fatto va a rinforzare il valore di Bitcoin infine Bitcoin miner profitability questo è un parametro che andremo a valutare molto meglio con la seconda ricerca secondo loro qui lo valutano circa un più 10.000 se non ho visto e non vedo male e di fatto mostra come i miner per vari fattori ripeto li vedremo meglio tra poco che li analizziamo uno a uno avranno una maggior profittabilità quindi saranno diciamo meno costretti a vendere questo diminuisce la selling pressure rischi asset stabilisation questo significa che quella fetta di asset class che viene definita appunto asset risk on rischi asset asset a rischio chiamateli come volete ma di fatto parliamo delle stocks parliamo delle cripto tutti quegli asset che diciamo sono un po' più volatili si dovrebbero stabilizzare dopo la crisi che c'è stata cioè la crisi in realtà possiamo dire il ritracciamento che c'è stato se andiamo a guardare anche nasdaq sp500 e tutti gli altri principali indici del mercato occidentale abbiamo visto un ritracciamento importante legato banalmente al rialzo dei tassi da parte della fed alle politiche di quantitative tightening e tutto quello di cui abbiamo parlato praticamente per tutta la seconda metà del 2022 questo dovrebbe avere un attimino di freno nell'anno 2024 perché adesso abbiamo raggiunto quasi il target dei tassi della fed nel 2024 potrebbero esserci già i tagli dei tassi e questo va a cambiare molto la situazione e a stabilizzare il mercato degli asset a rischio che invece è stato prosciugato di liquidità nel corso di questi ultimi anni halving cycle ecco questo è un altro punto molto importante perché se si va a paragonare ovviamente tutti i vari cicli di bitcoin fino ad ora vediamo che l'anno dell'halving è storicamente stato un anno che ha portato un incremento notevole del prezzo è sempre stato così quindi la statistica suggerisce anche vedendo l'andamento del prezzo vi faccio vedere proprio il grafico che viene riportato dunque eccolo qua vedete questo è un paragone dei vari cicli chiaramente al momento della stesura di questa ricerca noi siamo nel ciclo numero 3 come vedete c'è un certo parallelismo che alla fine insomma non è mai uguale a se stesso il movimento ma diciamo che è evidente come siano simili tutti e tre i cicli e pertanto come potete appunto vedere dal dalla sovrapposizione dei tre grafici terminato manca quest'ultima coda terminata questa fase di accumulazione poi c'è la fase post halving che più o meno velocemente ha sempre visto una bull run quindi questo è il penultimo componente l'ultimo componente che è quello che stiamo vivendo tra l'altro in questo periodo e questo non era ancora accaduto il caso blackrock etf spot e simili al momento della stesura di questa ricerca ma è stato molto lungimirante perché comunque ha dato il massimo peso a regulation e institutional investor flow e declining volatility anche questo è un punto importante questo fondamentalmente pesa nella loro proiezione circa 30.000 dollari sul prezzo di bitcoin e va a comporsi di vari fattori in primis l'interesse istituzionale quindi abbiamo davanti agli occhi un caso palese quindi il caso del filing praticamente in parallelo in una volta sola di tutti i principali fund manager di etf spot su bitcoin interessati quindi a prendere la loro fetta della torta e a dare possibilità di investire in questo strumento ai loro appunto investitori e questo tra l'altro ha portato addirittura a un cambio di opinione da parte di grossi personaggi come lo stesso Larry Fink CEO di BlackRock che prima reputava bitcoin un qualcosa di legato esclusivamente al riciclaggio mentre ora ne tesse le lodi ecco vedete come cambiano le opinioni e questo ovviamente ha un grosso push perché se persone finché siamo noi che siamo comunque nel settore siamo appassionati e abbiamo la testa molto dentro a questo settore qui a parlarne bene è un conto quando è Larry Fink che parla una platea completamente diversa è assolutamente un altro questo di per sé poi porta che cosa a un decremento della volatilità perché maggiore è l'influsso di capitale anche tramite strumenti regolamentati e maggiore è la stabilità del mercato stesso perché ci sono meno manipolazioni ci sono c'è più liquidità e questo chiaramente negli anni andrà a stabilizzarne la volatilità un po' come è accaduto sull'oro se così vogliamo all'inizio l'oro era molto volatile se andiamo a vederne il grafico vediamo se troviamo un grafico con sufficiente storico volevo proprio farvi vedere magari su time frame settimanale guardate all'inizio vabbè qui parliamo degli anni 70 ma all'inizio il grafico dell'oro era estremamente volatile molto simile a bitcoin se vogliamo guardate ad esempio questi ritracciamenti del 50% per poi avere delle salite del 700% e così via per poi diventare negli anni volatile con la sua adozione come riserva di valore come strumento finanziario e quant'altro ecco loro si aspettano un effetto molto simile proprio anche su bitcoin questi sono i fattori che nella prima ricerca che hanno fatto andavano a portare il loro price target per il 2024 appunto a 100.000 dollari chiaramente sono delle stime però questo è l'impatto che ci andavano a quantificare ah l'ultima cosa regulation mi stavo dimenticando il fatto che questi sono un po' gli anni delle regolamentazioni il mica le CBDC tutti quei casi mi viene in mente anche ripple versus sec ci aggiungerei che stiamo vivendo adesso si fa chiarezza e la chiarezza è fondamentale per avere l'adozione di massa passiamo ora alla nostra seconda ricerca quella che va a tuffarsi dritta nel mondo dei miner e sposta a rialzo questo target da 100.000 a circa 120.000 dollari quindi va ad aumentarlo del 20% come vedete qua iniziano dicendo la profittabilità dei miner è uno dei vari fattori che abbiamo stimato nella nostra precedente ricerca per questo ho pensato di dare una lettura veloce anche a quest'ultima per comprendere appieno questa quest'ultima predizione e in particolare loro dicono i miner decidono quanti dei nuovi bitcoin che entrano in supply al momento 900 bitcoin al giorno ovviamente nel prossimo halving verranno dimezzati o 328.500 l'anno raggiunge il mercato perché il miner decide se tenerli oppure se venderli ovviamente questo va a pesare direttamente sull'inflazione di bitcoin cioè è sbagliato dire così perché l'inflazione c'è comunque l'inflazione liquida tra virgolette quindi quella che va direttamente in vendita sul mercato stesso in questo report andiamo a vedere il comportamento scusate dei miner e come va a influire diciamo la profittabilità di loro dei miner con il possibile impatto sul prezzo di bitcoin nel primo quarter nel primo trimestre 2023 i 12 miner più grandi listati quindi pubblici aziende pubbliche che sono circa il 20% di tutto il mining globale di bitcoin ha venduto il 106% dei bitcoin minati il 106% vuol dire che loro oltre a vendere tutto il minato hanno venduto parte delle riserve e secondo le loro stime questo è il Q1 2023 quindi gennaio febbraio marzo 2023 i mesi precedenti secondo le loro stime questo era leggermente più basso del 100% nel Q2 quindi nel Q2 2023 aprile maggio giugno le vendite sono diminuite a circa meno del 100% se il prezzo di bitcoin dovesse aumentare a circa 50.000 dollari cosa che ci aspettiamo per la fine 2023 ecco qua la prima predizione la frazione dei nuovi bitcoin minati che vengono venduti a mercato dovrebbe scendere al 20-30% questo significa una riduzione netta annuale di bitcoin venduti di 250.000 unità quindi noi prima abbiamo predetto che questo driver aggiungerebbe 10.000 dollari al prezzo di bitcoin quello che abbiamo visto se vi ricordate qua 10.000 ora noi pensiamo che questo è troppo conservativo e quindi c'è ancora un po' di upside la domanda è quanto questo primo grafico è interessante perché fa vedere la profittabilità dei miner nella storia questo è un grafico con dati storici quindi reali e fa vedere la correla la percentuale di bitcoin venduti vedete qui nell'asse di destra abbiamo la percentuale di bitcoin venduti e qui nell'asse di sinistra che va in direzione contraria c'è il prezzo di bitcoin guardate come nel nel tempo qua abbiamo con un prezzo di bitcoin molto alto abbiamo l'unica cosa non capisco il valore negativo ah no ok il prezzo di bitcoin meno tutti i costi infatti mi stavo dimenticando questa cosa c'è il prezzo di bitcoin meno i costi operativi dei miner quindi se il miner è profittevole si trova sopra lo zero se il miner è in perdita si trova sotto lo zero ovvero bitcoin vale meno di quello che loro spendono al fine di capire la correlazione quindi vediamo che nel momento in cui c'è profittabilità maggiore è la profittabilità e minore è la vendita vedete fino ad arrivare a meno del 20% nel 2021 dei bitcoin che vengono minati se li tengono belli stretti a riserva al contrario quando la profittabilità diminuisce i bitcoin venduti aumentano il picco è stato nel famigerato 2022 qua c'è una proiezione chiaramente che secondo loro andrà a rialzo del prezzo di bitcoin e questo dovrebbe riportare in maniera vedete pressoché parallela la percentuale di bitcoin venduti dicevano tra il 20 e il 30% qua viene spiegato adesso questo grafico lo riprendiamo tra poco qua viene spiegato che cosa fanno i miner questo ve lo risparmio perché lo do per scontato se non sapete non conoscete bene il mondo del mining come funziona e le basi quindi di bitcoin vi consiglio di andare sulla nostra piattaforma di formazione gratuita learn.thecryptogateway.it e seguire il nostro corso super gratuito su le basi di bitcoin e criptovalute come vedete c'è un'intera sezione dedicata al mining proof of work proprio spiegato dalla A alla Z in modo facile andiamo quindi avanti qua vi spiega chi sono i miner ecco come i miner guadagnano questo punto è molto importante perché ci misura come fanno qual è il modello di business del miner fondamentalmente il profitto giornaliero del miner eccolo è dato dalle revenue del miner ovviamente meno i costi di produzione questo vale per tutte le imprese in particolare il daily revenue da che cos'è dato dall'ash rate del singolo miner diviso per l'ash rate di tutta la rete ovviamente più il miner partecipa con un hash power grande rispetto al network e più ovviamente si prende una fetta dei bitcoin erogati cioè è automatico immagino che lo capiate cioè più il network complessivo ha hash power più il singolo miner magari conta meno e guadagna meno più il singolo miner conta di più e più guadagna perché gli arrivano più bitcoin moltiplicato per 900 che è l'emissione di bitcoin giornaliera moltiplicata per il prezzo di bitcoin questo è il revenue giornaliero del miner le spese sono l'energia e il il costo dell'energia e l'energia consumata perché ogni ASIC ogni macchina che mina consuma tot wattora kilowattora e il kilowattora costa tot dipende dal paese dipende dalla fonte i fattori quindi che guidano che vanno a influire sulla profittabilità dei miner sono quelli che abbiamo già visto quindi niente di più e niente di meno e qua in realtà non ci fa più rivedere il grafico 1 il grafico 1 è semplicemente un parallelo per andare a graficare quello che veniva detto nel paragrafo iniziale adesso invece andiamo a vedere i singoli miner guardate qui abbiamo 48 12 miner listati quindi miner che sono aziende pubbliche soprattutto americane anzi forse solo americane in questa ricerca perché hanno tutti i dati pubblici a bilancio e ci fa vedere quanto costa un bitcoin per ognuno di essi e qua magari vi chiedete ma come mai questa diversità adesso lo andiamo a vedere e qua abbiamo di nuovo costi diretti più altri costi per ogni bitcoin minato e andiamo anche a vedere cosa si intende per solo costi diretti oppure costi diretti più altri costi perché vedete che varia molto allora listed miners qui abbiamo qui mostra che hanno utilizzato i miner listati sul mercato pubblico Nasdaq perché hanno il grosso della fetta ovviamente del mining mondiale soprattutto dopo il crackdown della Cina si è spostato tutto soprattutto negli Stati Uniti e questo ha fatto sì che appunto emergesse un'industria molto importante negli Stati Uniti stessi allora ci focalizziamo su tre fattori direct cash cost questo rappresenta il costo diretto di mining di un bitcoin soprattutto elettricità ed esclude il depreciamento il depreciamento degli ASIC soprattutto perché gli ASIC si usurano nel tempo li tieni accesi ovviamente valgono sempre meno si usurano dopo un po' vanno buttati via addirittura vanno rimpiazzati punto 2 costi diretti più altri costi ecco qua è costi diretti del punto 1 più i costi aziendali quindi corporate office overhead costo del personale costo degli uffici e così via esclude i pagamenti inequiti quindi se delle quote aziendali vengono date allo staff questo non è calcolato numero 3 se i bitcoin vengono venduti o holdati anche questo è un punto importante per la profittabilità dei miner ovviamente se li vendono fanno cassa se non li vendono non fanno cassa qui ci mostra come i costi per bitcoin minato per ogni azienda variano parecchio perché guardate i newcomers quindi gli ultimi arrivati come cypher mining e terawolf hanno costi più bassi andiamo a vedere cypher è quello grigio vedete che è arrivato da poco il grafico è di breve ed è quello con i costi più bassi terawolf è questo a parte questo picco vedete che i costi comunque sono bassi e questo perché perché hanno delle macchine efficienti sono arrivati dopo quindi hanno un parco macchine molto efficiente che consuma poca energia soprattutto e cypher mining va bene ecco quelli su larga scala come riot e core scientific sono i più grossi che hanno ridotto i costi corporate in eccesso hanno fatto dei tagli notevoli performano molto bene andiamoli a vedere riot è quello verde vedete che è rimasto abbastanza costante perché perché è talmente strutturato che è in grado di rinnovare il parco macchine di fare bene comunque di essere sempre profittevole e ha una un numero cioè del personale talmente ampio che può permettersi una gestione molto più avanzata lo stesso vale per core scientific come potete vedere e che ha avuto un leggero picco vedete in nel 2022 core scientific che è il periodo in cui se vi ricordate ha rischiato se non ricordo male il chapter 11 o sbaglio era core scientific poi ha fatto la ristrutturazione infatti è lui che ha ridotto i corporate cost ha fatto la ristrutturazione e questo lo ha portato a vedete avere ancora dei costi più contenuti nei mesi a seguire quindi non ricordo se aveva fatto proprio il chapter 11 no forse no era solo una ristrutturazione mentre Moson ha visto una riduzione nel numero di bitcoin minati negli ultimi 12 mesi e va molto male vedete è questo qua la linea leggerina negli ultimi mesi probabilmente non ha rinnovato il parco macchine è rimasto indietro ha avuto una quantità molto più bassa di bitcoin minati e quindi questo ha incrementato notevolmente il suo costo diretto per bitcoin minato addirittura a 60.000 quindi non benissimo per loro bene eccoci qua allora ecco il prossimo punto importante sarà l'halving perché l'halving di mezza le emissioni quindi ragazzi raddoppia praticamente tutti questi costi per tutti i miner ovviamente non è così semplice la cosa perché molti miner se ne andranno perché non sono così strutturati c'è più competizione e questo porta a significant industry consolidation c'è sempre stato vedete anche nei cicli di halving precedenti e questo cosa significa spazzare via un po' di concorrenza porta un po' di è brutto dirlo ma sì centralizzazione del mining questo riduce l'hash rate per un certo periodo quindi di nuovo si immaginatevi si dimezzano le emissioni i costi aumentano molti miner spengono le macchine perché gli costa troppo e non sono più profittevoli soprattutto i piccoli miner e quindi cosa succede rimangono quelli più strutturati che magari approfittano dell'hash power che diminuisce per andare a riempire quel gap e acquisire una quota maggiore dell'hash power intera infatti storicamente c'è sempre stata una diminuzione dell'hash power che però poi ha portato a un rincremento e un continuo aumento negli anni ricordiamo che l'aumento negli anni dell'hash power è anche dovuto al fatto che vengono sempre prodotte ingegnerizzate macchine più efficienti per il mining quindi che producono maggiore hash power con minore costo energetico il costo medio di struttura per i miner è diminuito nel Q4 2022 e nel Q1 2023 perché ecco qua c'è un altro fattore i prezzi dell'energia i prezzi dell'energia che sono mostrati in figura 6 come vedete sono decrementati tra fine 2022 e inizio 2023 e questo ha decrementato di pari passo in modo parallelo perché è direttamente proporzionale il costo diretto e il costo diretto più altri costi come abbiamo visto prima del mining di bitcoin in azzurro costo diretto in verde costo diretto più altri costi in media in blu c'è il costo dell'energia come vedete erano arrivati a costare a settembre tra i 25 e i 30 mila dollari in media con i costi anche aziendali che sono comunque dei costi da tenere in considerazione questo va a impattare direttamente per ovvi motivi sull'holding o la vendita dei bitcoin stessi perché tu hai bisogno di cassa hai bisogno di cassa per pagare le spese e quindi se devi far fronte a spese più alte vai a vendere dei bitcoin che detieni che non vuol dire che magari li avevi già li hai sempre tenuti in pancia li cominci a vendere perché hai bisogno ripeto di cassa poi ovviamente i miner le aziende di mining cercano di detenere il più a lungo termine possibile perché è un'industria molto basata sul prezzo futuro di bitcoin sulla crescita del prezzo di bitcoin quindi vendono solo quando strettamente necessario non fanno timing di mercato cioè non è che cercano di vendere ai massimi perché non hanno intenzione sicuramente di fare trading sicuramente si copriranno con prodotti derivati opzioni futures e quant'altro ma la loro operatività come vedete è molto molto semplice storicamente in media i miner tendono a detenere i bitcoin fin tanto che il prezzo di bitcoin è sopra la media del all in cash cost of mining questo è uno dei punti più importanti dell'intera ricerca perché ci dice che fin tanto che il prezzo quindi questo valore qui è positivo i miner tendono a holdare in modo proporzionale quando questo diventa negativo i miner ovviamente vendono nel Q2 2022 periodo peggiore quando il bitcoin price è sceso sotto il direct cash cost un periodo c'è stato un periodo di panic selling principalmente da core scientific e bit farms vedete che core scientific ritorna che precedentemente hanno sempre il dato tutti i loro bitcoin ecco infatti core scientific è stata ristrutturata e questo ha influito direttamente su quanto decideva di vendere cioè la ristrutturazione aziendale nel procedimento di ristrutturazione è stato detto bisogna vendere parte dei bitcoin faceva parte proprio del procedimento stesso nel mentre ha tagliato i costi di circa 12.000 dollari per bitcoin e questo lo abbiamo visto se vi ricordate in questo grafico dove era core scientific da qua è andata a finire qua un po' confuso ma si vede la riduzione netta dei costi questa è stata la ristrutturazione aziendale e questo vedete potrebbe andare a impattare cioè andrà con buona probabilità a impattare no scusate è qua questo dovrebbe ridurre drammaticamente l'ammontare di bitcoin che core scientific dovrà vendere in futuro nel Q2 2023 ci aspettiamo che meno del 100% dei bitcoin minati è stato venduto adesso qui non ci sono i dati è solo una proiezione e verrà verificato quando i dati Q2 verranno rilasciati adesso probabilmente no non so se sono già stati rilasciati oppure no i dati ufficiali i bilanci delle aziende nel Q2 gli earnings report e se il prezzo di bitcoin continua ad aumentare ancora meno bitcoin dovranno essere venduti nel tempo se il prezzo raggiunge 50.000 dollari che è la loro predizione per fine anno e i costi cash non cambiano questo dovrebbe portare a un ritorno a solo il 20% di vendita dei bitcoin minati quello che abbiamo visto qua vedete tac perché si arriva di nuovo a bitcoin meno prezzo medio cioè costo del costo operativo che è circa 30.000 si torna al 20% dei bitcoin venduti pensiamo che questo prezzo è raggiungibile a fine 2023 o Q1 2024 qua ci fa vedere la active supply così in più giusto per vedere la supply liquida e qui l'inflazione di bitcoin che halving dopo halving si va dimezzando e adesso è al 2% circa e quindi questa è una una mossa drastica ma perché dicono può sembrare drastica come proiezione dal 20% cioè arrivare dal 106% al 20% di bitcoin venduti però ha senso in termini di cash in eccesso generato perché perché andare a vendere solo il 27% dei bitcoin minati nel Q1 2024 se il prezzo sarà 50.000 dollari genererebbe lo stesso livello di excess cash quindi di cash in eccesso a meno delle spese che vendere il 100% dei bitcoin minati nel Q2 2023 vedete qua ti fa il calcolo che 8.000 su 30.000 è il 27% quindi è quello che bisognerebbe vendere per generare lo stesso cash in eccesso questo dovrebbe ridurre il la vendita dei miner di circa 250.000 bitcoin l'anno e di fatto questo porterebbe l'inflazione netta a circa lo 0,4% anno su anno anziché l'1,7 come è attualmente che è il 100% dei bitcoin venduti e questo ovviamente impatterebbe parecchio sull'offerta qua si parla di offerta soprattutto altri fattori da considerare costo dell'elettricità ovviamente se i costi dell'elettricità andranno a calare di conseguenza il prezzo di mining di bitcoin calerà e il mining e i miner diventeranno ancora più profittevoli e questo porta di nuovo a una minor vendita dall'altra parte loro si aspettano che i prezzi dell'elettricità rimarranno abbastanza stazionari i prezzi degli ASIC qua si apre un altro capitolo guardate i prezzi degli ASIC rispetto al prezzo di bitcoin sono che il prezzo di bitcoin è la linea vedete più sottile i prezzi degli ASIC sono estremamente paralleli al prezzo di bitcoin correlatissimi perché ovviamente perché il prezzo di bitcoin aumenta c'è più domanda per gli ASIC più gente li vuole comprare quindi si è una sorta di asta al rialzo mentre in questo periodo nell'ultimo anno l'offerta ha sovrastato la domanda ne continuavano a produrre nessuno li comprava e il prezzo ovviamente si sopprime i prezzi degli ASIC continueranno a crescere in parallelo al prezzo di bitcoin proprio perché c'è domanda per nuove macchine l'ash rate di bitcoin incrementerà più lentamente e quindi i miner perché l'offerta prima o poi si esaurirà non è che ne producono a ritmo infinito ne continuano a produrre adesso non li vuole nessuno i prezzi sono bassi quando li rivorranno li acquisteranno i prezzi aumenteranno ma poi dopo un po' iniziano le liste d'attesa e quindi c'è un piccolo freno al hash power alla crescita del hash power e quindi i miner attuali riceveranno sempre la fetta un po' più grossa dei bitcoin e questo vuol dire ovviamente più profittabilità per loro costi di funding allora qua è l'ultimo punto interessante importante da approfondire ovvero i miner hanno tre fonti di cash di liquidità vendere bitcoin vendere equity quindi quote aziendali oppure contrarre prestiti i miner con cui abbiamo parlato dicono che al momento i loro prezzi dell'equity sono talmente bassi perché sono aziende crypto quindi i prezzi sapete come funzionano sono talmente bassi che non gli conviene diluire le loro quote vendere quote a questi prezzi vendendo equity inoltre prendere prestiti con i tassi di interesse che ci sono adesso ovviamente non conviene e questo lascia bitcoin selling come opzione per avere cash durante questo ciclo comunque come abbiamo visto i prezzi di bitcoin se salgono avranno porteranno maggiori cash profit e quindi ridurranno la vendita di bitcoin che sarà il principale parametro importante per definire la appunto la pressione sul prezzo quindi dicono reiteriamo la nostra predizione di circa 100.000 dollari con addirittura questo ulteriore upside di 20.000 quantificato stimato ovviamente sono stime di 20.000 dato dal ridotto selling dalla ridotta selling pressure da parte dei miner amici questo è quanto spero che abbiate trovato interessante come sempre non tanto la predizione perché le predizioni di prezzo non hanno nessun tipo di valore ma le dinamiche che abbiamo visto cioè io trovo estremamente interessante vedere che cosa per le istituzioni e chi fa ricerca in ambito finanziario può impattare effettivamente sul prezzo e poi è super interessante a mio parere andare anche a scavare così in profondità valutando dei modelli di pricing addirittura di bitcoin stesso basato su vari fattori io credo siano cose molto interessanti da imparare da portarsi a casa ditemi cosa ne pensate io vi auguro una buona serata e alla prossima